E' vero come tu dici che c'è dentro questo libro anche la mia vita che si è alternata tra l'Occidente, l'Occidente estremo, così io chiamo la California, New York dove vivo adesso e l'Asia. Ho vissuto cinque anni in Cina, ho passato dei periodi lunghi in India, in Giappone, in Vietnam e tutto questo però si aggiunge a un investimento che ho fatto nelle letture, perché qui mi occupo molto di storia, di storia antica, anche di storia antichissima. Il libro si apre con una citazione da una studiosa molto autorevole che è la capo bibliotecaria di Londra, della più grande biblioteca pubblica di Londra, che ci ricorda che la civiltà cinese ha almeno 3.000 anni di storia nella continuità, cioè una storia all'interno di uno stesso sistema di riferimento culturale, cosa che non possiamo dire di nessuna cultura occidentale. Quindi mi sono documentato, ho passato anni a divorare biblioteche. Questo è un libro che è fatto di vita vissuta, di luoghi della mia esperienza, ma anche di tante tante letture, di studiosi. Infatti alla fine c'è anche una bibliografia commentata in cui spiego tutte le mie fonti. Sì, la pandemia è un test, è come una guerra mondiale. Sono quelle prove che accadono una volta ogni secolo, una volta ogni tre, quattro generazioni. Oltre all'impatto della tragedia in sé, che porta via tante vite umane, che impoverisce, c'è poi una sorta di test sulla solidità delle collettività umane che vengono sottoposte a questo stress inaudito. Cioè, proprio come da una guerra, si esce da una pandemia con dei vincitori e dei perdenti. Non per volere sempre interpretare tutto con l'ottica della geopolitica, però non c'è dubbio che ci sono delle civiltà che sono addirittura scomparse. Io nel libro inserisco anche un po' di storia antica delle pandemie, quasi tutte tra l'altro venute dall'Oriente, non peraltro ma perché là c'è una tale concentrazione di popolazione umana e animale che è il laboratorio ideale per le pandemie tra la Cina e l'India, molto più che in altre parti del mondo. Ci sono delle civiltà che sono state distrutte, il genocidio degli indiani d'America avviene non tanto per via militare, ma per via batteriologica, e autorevoli storici sostengono per esempio che la fine dell'impero romano è stata accelerata dalla famosa peste Antonina. Quindi nella storia c'è una continuità, le pandemie spesso originate a Oriente sono dei test di civiltà e quindi noi già siamo portati in questo momento a osservare quello che sta accadendo per vedere chi risponde meglio. E qui uno dei temi che è un filo conduttore del mio libro, che è un libro di storia su duemila e oltre anni di rapporto tra Oriente e Occidente, è che dobbiamo sempre ricordarci che l'Oriente è plurale, non c'è un Oriente. Nella nostra storia ci siamo confrontati con la Persia, quando la Persia era l'Oriente, poi l'India, la Cina, il Giappone. Ecco, oggi anche quando osserviamo la capacità di interi stati, nazioni, comunità, collettive, di uscire da questa pandemia meno stremati, meno indeboliti, dobbiamo guardare con attenzione alle differenze. La Cina non è il Giappone, non è la Corea del Sud. C'è un modello autoritario cinese, ma ci sono anche delle democrazie in Estremo Oriente che sanno in questo momento reagire alla pandemia in modo più efficace rispetto ai paesi occidentali. Sì, questo è davvero uno dei temi centrali del mio libro, anche se non è un libro che si occupa solo di storia politica o di storia economica, c'è anche tanto la storia della cultura, dell'arte, perché negli scambi tra Oriente e Occidente c'entrano molto anche la produzione artistica, la produzione di immagini e di valori. Comunque, un personaggio che percorre il libro in modo importante è Confucio. Quindi stiamo parlando di uno dei pensatori che hanno segnato la storia della Cina, ma anche di altre civiltà vicine, perché c'è tanto confucianesimo nella tradizione del Giappone e della Corea. Vietnam e Singapore anche, li metterei nell'area confuciana. Allora, Confucio, per sintetizzare, è un grande scienziato della politica, è l'equivalente di un Machiavelli, ma con un'influenza molto superiore, viste le dimensioni dell'area e delle popolazioni che continuano a tramandarsi il suo pensiero. E tradotto nel linguaggio di oggi, certamente noi abbiamo in Confucio un pensatore della comunità. rispetto, ecco, qui abbiamo una delle differenze di fondo tra noi e loro, tra Oriente e Occidente, è che loro sono abituati a pensare in termini di doveri dell'individuo nei confronti della collettività, prima ancora che di diritti. Questo, ecco, è un pensiero che va maneggiato con molta attenzione. Qualche volta è stato strumentalizzato, manipolato. Non sta scritto da nessuna parte che Confucio debba essere il pensatore di un paternalismo autoritario come quello della Cina di oggi. Si può essere confuciani e democratici. Confucio teorizzava anche il diritto a deporre un sovrano ingiusto, a cacciare via un imperatore incapace. Queste sono cose molto interessanti. E quindi voglio ricordare, perché il mio libro è anche uno sforzo di andare in profondità nella storia ed evitare le scorciatoie e le semplificazioni. Ricordiamoci che noi occidentali a volte ci siamo costruiti un'immagine dell'Oriente che era una forzatura. Lo abbiamo fatto a scopi ideologici. A partire da Alessandro Magno, ma anche prima, anche con le guerre persiane, Erodoto, comincia ad affiorare tra noi all'epoca greci, e la Grecia è una delle culle del pensiero occidentale, l'idea che dall'altra parte, in Asia, ci sono delle masse sterminate, anonime, abituate a obbedire ciecamente a un sovrano, un imperatore con poteri limitati. È l'idea del dispotismo orientale che si riaffacerà in altri pensatori molto, molto più moderni, molto importanti, influenti come Marx. Marx parla di dispotismo orientale. Abbiamo sempre avuto tendenza a pensare che l'Asia era il luogo dei grandi imperi, mentre noi siamo il luogo delle piccole città-stato, quindi già in embrione delle democrazie. Attenzione però, perché in questa narrazione, un po' troppo semplificata, un po' superficiale, ci sono delle eccezioni importantissime. Io ricordo, ad esempio, che tutto il mondo dell'illuminismo francese Voltaire-Montesquieu ammiravano la Cina come un sistema politico molto più moderno di quelli europei del loro tempo. Vedevano negli esami di selezione dei mandarini dell'alta burocrazia dell'impero celeste un sistema meritocratico, trasparente, molto migliore, molto più efficiente rispetto al modo in cui l'ancien regime in Francia e in altri paesi europei selezionava la sua classe dirigente. Quindi abbiamo avuto dei momenti in cui in realtà le narrazioni si ribaltavano. Ma è un tema che io seguo quotidianamente nella mia attività di corrispondente di Repubblica degli Stati Uniti, da New York, direi che questo è il tema di oggi. Peraltro lo avevo avvistato con un certo anticipo perché il mio libro precedente, prima di Oriente e Occidente, era un libro più focalizzato sull'attualità geopolitica e si intitolava La seconda guerra fredda, uscito l'anno scorso. Questa seconda guerra fredda va ben al di là della guerra dei dazi, cioè ridurre tutto al protezionismo di Donald Trump significa sottovalutare la portata storica di quello che sta accadendo. Qui siamo di fronte a una di quelle grandi svolte della storia in cui c'è una superpotenza in declino che si sente minacciata e c'è una superpotenza in ascesa che ha delle aspirazioni egemoniche. Nella storia purtroppo spesso questo tipo di situazioni si sono risolti con delle guerre nel passato, più spesso con delle guerre che non con strumenti pacifici. Ma io, visto che adesso parliamo di Oriente e Occidente, quindi un libro di storia nel lungo periodo in cui io vi porto con me a esplorare almeno duemila anni, anche un po' di più, diciamo due millenni e mezzo, allora in quest'ottica bisogna ricordare che l'Asia è stata quasi sempre il centro del mondo. Per grandissima parte della storia umana le civiltà più avanzate economicamente, tecnologicamente, scientificamente erano la Cina o l'India o tutte e due. noi ci siamo illusi di essere il centro del mondo solo perché negli ultimi cinque secoli abbiamo avuto una lunghezza di vantaggio, però adesso è chiaro che il pendolo della storia sta oscillando nell'altra direzione, sta ritornando laddove la storia umana quasi sempre ha avuto il suo centro, che è dove tra l'altro abita la maggior parte degli abitanti della Terra perché comunque Cindia ed intorni ed intorni non dimentichiamo che Cina e India ciascuna hanno un miliardo e quattrocento milioni di abitanti in mezzo tra loro c'è uno spicchio di continente asiatico che chiamiamo il sud-est asiatico che fa la bellezza di 650 milioni di abitanti cioè molto più dell'Unione Europea ecco poi c'è il Giappone poi c'è insomma quella parte del mondo sta ritornando a essere il centro ed è una ragione in più per cui è molto utile e interessante conoscere la loro storia ma questi sono più i temi del penultimo libro quello sulla seconda guerra fredda in questo veramente mi immergo nelle profondità della storia però in un certo senso anche Oriente Occidente cerca delle risposte a questa domanda perché è un libro dove io mi interrogo anche sull'idea di occidente cosa vuol dire essere occidentali un termine che nasce davvero con l'antica Grecia inizialmente è un termine geografico poi però si carica via via progressivamente di un senso ideologico culturale valoriale religioso le religioni hanno un ruolo molto importante nei rapporti tra noi e loro accenno brevemente a delle questioni che nel libro tratto in maniera molto più ampia una è questa già il cristianesimo in realtà arriva dentro il cuore dell'Europa come una scheggia di influenza orientale per i greco-romani il cristianesimo viene da Oriente Israele è in Asia Minore quindi è molto interessante poi quando arrivo fino al capitolo finale sulle pandemie e saccheggio quel libro straordinario che è l'Apocalisse perché l'Apocalisse è un libro di una qualità artistica incredibile e di nuovo l'influenza orientale è fortissima in questo che è l'ultimo libro del Nuovo Testamento quindi ricordiamoci che anche il cristianesimo agli esordi alle origini viene percepito come una religione venuta da Oriente e l'altro tema importante nel libro è l'Islam perché per gran parte della nostra storia il nostro rapporto con l'Oriente è stato mediato da civiltà islamiche magari convertite ma islamiche la Persia tutto il periodo in cui l'India era governata dagli imperatori mogul che erano dei mongoli convertiti all'Islam questo è molto importante così come è importante poi capire perché l'Islam è stato percepito come una religione aggressiva e conquistatrice dalle altre civiltà asiatiche l'India induista la Cina buddista e confuciana che non a caso oggi sono il centro di uno scontro con l'Islam oggi se ci sono dei paesi che hanno degli atteggiamenti durissimi contro l'Islam sono l'India e la Cina non l'Europa ma vengo alla domanda sull'attualità cioè che dove l'Europa deve scegliere di stare ma questo di nuovo è un tema che ci accompagna dai tempi dell'antica Grecia di Alessandro Magno l'Europa in realtà è una piccola periferia dell'Asia geograficamente noi non esistiamo come un'entità autonoma non c'è un vero confine tra l'Europa e l'Asia le montagne degli Urali sono un confine arbitrario che dividono in due la Russia europea dalla Russia asiatica ma in realtà si dovrebbe parlare di una massa continentale eurasiatica quindi la dicotomia tra Oriente e Occidente è molto una costruzione del pensiero è una questione di valori e allora oggi fare la scelta di valori certo con un'America così allergica all'idea di solidarietà occidentale un'America isolazionista un'America che si ripiega su se stessa l'Europa rischia di essere spinta nelle braccia della Cina senza che questa sia nemmeno una una sua scelta riflettuta e deliberata beh è un buon investimento oggi studiare il mandarino farlo studiare ai propri figli o ai propri nipoti senza alcun dubbio ricordo due cose due temi uno l'ho già detto ma voglio insistere molto il mio libro non parla solo della Cina l'Oriente è stato la Persia è stato l'India importantissima l'India per tutta la corrente del romanticismo tedesco è andata in India a cercare la saggezza la religione la spiritualità e l'India è importante anche oggi anche se il premier indiano non è molto popolare in Occidente e poi c'è il Giappone il Giappone è un paese molto importante che va riscoperto continuamente perché è un altro estremo oriente rispetto alla Cina detto questo voglio anche ricordare che negli ultimi tre secoli sono stati loro a studiare noi e più di recente a studiare l'inglese perché c'è stato un periodo della storia breve ma importante in cui l'Oriente ci ha considerati un modello e uno dei capitoli del mio libro su Oriente e Occidente è proprio dedicato all'occidentalismo degli orientali quando tutte le elite tutte le classi dirigenti di quei paesi hanno deciso che dovevano copiarci perché noi eravamo la modernità e questa è una fase molto importante anche questa va studiata bene per capire cos'è la Cina di oggi e prima ancora per capire cos'è il Giappone e studiare quelle fasi in cui loro hanno deciso di succhiare tutto il meglio dall'Occidente e al tempo stesso come hanno tentato di preservare delle tradizioni qualche caratteristica asiatica che intendevano salvare a tutti i costi anche in una fase di forte omologazione a una modernità occidentale beh chiaramente è un onore per me infatti sono stato molto lusingato quando l'editore Inaudi mi ha proposto di essere il primo di una nuova collana mi piace l'idea il versus che è un termine latino ma molto usato qui negli Stati Uniti per esempio nel linguaggio giuridico americano le cause vengono tra due soggetti che si trascinano l'un l'altro in tribunale vengono definite con il versus in mezzo abbreviato VS quindi l'opposizione il contrasto e l'ho trovato una bellissima sfida che proseguirà con altri titoli altri autori e altri temi quella di cimentarmi con questo versus questa opposizione fondamentale che veramente ha segnato oltre due millenni di storia umana perché il diciamo questo questa cifra questo codice questa chiave di lettura oriente occidente ha attraversato così tante dimensioni della nostra storia della nostra vita della nostra immagine percezione di noi stessi c'è un capitolo che dedico per esempio al tema della donna del rapporto tra i sessi della sensualità e dell'erotismo come anche qui abbiamo inseguito un oriente a volte immaginario e quante volte nella storia si sono scambiati i ruoli la collocazione della donna il ruolo della donna è una delle questioni che si affacciano continuamente nel rapporto tra oriente e occidente grazie a tutti Grazie a tutti